Sono Marco Colombo, naturalista, fotografo e divulgatore scientifico e il mio scopo è mostrare la biodiversità italiana attraverso le mie immagini. Il mio lavoro si divide in due branche principali, una è l'educazione ambientale che si svolge nelle scuole, nei parchi nazionali dove accompagno le persone per vedere gli animali o nelle mostre fotografiche e invece un'altra parte è quella proprio di fotografo di campo, sia sott'acqua che fuori dall'acqua, nelle varie regioni, dalle montagne alla costa in Italia per fotografare gli animali nel loro ambiente naturale. Non è facile dire quale sia il mio ambiente preferito per lavorare perché sono molto diversi, un po' come confrontare le mere con le pere. Ho lavorato molto sul fiume perché è un ambiente molto minacciato, alterato dalle attività antropiche e delle attività umane e ricco di vita. Per fotografare gli animali selvatici spesso bisogna effettuare dei lunghi appostamenti ed è molto importante conoscere a priori la specie che si cerca, primo per non disturbarla, per non interferire con le sue abitudini, con il suo comportamento o con la sua riproduzione per esempio e secondo per ottimizzare le uscite perché non si è allo zoo quindi ovviamente gli animali si muovono e non sempre si riescono a incontrare. Gli appostamenti si svolgono normalmente all'alba o al tramonto, spesso in inverno quindi con il freddo, bisogna rimanere tante ore fermi, seduti. A volte ci si addormenta anche nell'attesa e sicuramente passano un sacco di animali mentre stai dormendo però quando poi vedi effettivamente quello che stavi cercando sono sempre degli incontri incredibili. Non sono molto da fotografia di ritrattone quindi per forza animale molto vicino con lo sfondo sfocato. Mi piacciono molto di più contestualizzati quindi con una bella luce, un bello scenario attorno perché secondo me è un messaggio di conservazione più ecosistemico, cioè un messaggio più trasversale. Quando tu mostri una fotografia di un cervo e basta le persone ti dicono che bello il cervo proteggiamolo. Se invece mostri dei cervi che camminano in un paesaggio spettacolare le persone dicono che bel luogo proteggiamo quel luogo lì e quindi poi dentro ci passeranno come ricaruta collaterale i cervi, gli orsi, i lupi e in questo modo tu riesci a proteggere come se fosse un ombrello tutta la zona. Ovviamente l'attività del fotografo naturalista deve interferire il meno possibile con la vita degli animali che va a ritrarre e non deve arrecare danni o disturbo. Per esempio fotografia ai nidi degli uccelli oppure pasturare gli animali in libertà sono due attività assolutamente sconsigliate e anche vietate per leggi che non devono essere fatte perché poi è anche la soddisfazione di riuscire a incontrare gli animali solo seguendo le tracce e sapendo prevederne le abitudini senza interferire. Ovviamente nessuno può assicurare al cento per cento di non interferire in toto perché già camminando su un sentiero fotografando un animale quando percepisce la tua presenza perché sente il rumore dell'otturatore ovviamente sta interferendo però dipende quanto è questo grado di interferenza qual è il paletto che tu dici da qui in poi io non devo continuare. Grazie a tutti. Grazie a tutti.